Questa casa del tetto bianco alla periferia di Capriana era la casa natale di Maria Domenica Lazzari, la stigmatizzata di Capriana. Questo plastico ricostruito fa vedere come era il paese a metà dell'Ottocento, poche case, quando visse appunto la Meghina e questa vicenda che è ricostruita ora anche ai fini della causa di beatificazione in questa casa museo che è visitata da un numero sempre più numeroso di persone. Bruno Zanolla fa parte della situazione degli amici della Meghina, è una delle persone che presenta il murino qui a Capriana alle puntive, ai visitatori che vengono perché hanno sentito parlare di questa addolorata di Capriana, Maria Domenica Lazzari. Di cosa accolgono i visitatori qui? Quelli che vengono sicuramente vengono con fede perché la Meghina li trasmette qualche cosa che è impossibile raccontare veramente. C'è qualcuno che non crede come già per tutto. quando arriva quei della picchia arrivano tante famiglie per tutta Italia, io ne dite sopra, su cinquanta ne arrivano magari venti, però quei venti che arrivano su, quelli sanno sicuramente la fede e credono, anche se è la prima volta che vengono. E c'è tanta gente che vengono anche due volte, tre volte in un anno ultimamente vengono perché c'hanno la fede. Signor Bruno, lei è di Capriana come la Beata Meneghina. Anche i suoi genitori, i suoi nonni, le parlavano di questo personaggio. Cosa le dicevano e cosa lei capiva allora? Capriana è sempre stata la Beata Meneghina. Lei vorrebbe che questa causa arrivasse in porta? Sarei felicissimo. Prima di morire io sarei felicissimo che andassi in porta. perché io sono in porta. Te l'auguriamo perché così potrebbe portare davvero alla Beata Meneghina, chiamarla anche tale. Purtroppo la mia bellaità ormai che ho 82 anni subito e non so, io spero c'è entrato. Questo mulino ha bisogno ancora di una guida preziosa come lei per molti anni. E finché sono capace vengo volentieri, anche tre volte al giorno subito. Tre volte la mattina, dopo tre volte anche la sera. Un po' la sua seconda casa, sì.